che ha certe condanne a senso unico del body shaming, ne irride la figura di un movimento romano. Il Loni negli anni si è ritagliata uno spazio tra i protagonisti di una politica italiana declinata per la più gran parte solo al maschile. Alla sua linea collega la crescita di consensi del suo partito, Fratelli d'Italia, e le nuove connessioni con il network del conservatorismo europeo. Al fenomeno, le sue origini e alle ragioni del suo successo, l'editore e saggista Francesco Giubilei dedica il suo saggio. È un viaggio alla ricerca delle basi storiche, politiche, culturali, delle parole d'ordine, alla base della crescita di Fratelli d'Italia, avvenuta attualizzando la lezione di Pinuccio Tattarella di apertura senza però dimenticare che si è rinunciato al mondo della destra. Una proposta è un personaggio che dunque mietono consensi nella platea moderata, grazie a una proposta che rinnova senza snaturarli i temi cardine della destra italiana. Ciò ha fatto sì una destra moderna basata sul concetto di famiglia, sul concetto di nazione, sulla tutela dell'identità cristiana italiana ed europea, sulla salvaguarda della natura, tutte tematiche che sono arrivate al cuore degli elettori nonostante il contesto politico italiano sempre più difficile.